Perché vedendo in tv molte partite di palla a volo mi piaceva l'idea di provare la stessa emozione. Perché mi piaceva l'idea di diventare una pallavolista da grande. Perché mi hanno consegnato di farla e perché sapevo che mi piaceva. Non lo so perché aveva anche la mamma che faceva questo sport e allora ho voluto scegliere anch'io di provare. La regola principale della pallavolo è divertirsi. Che non bisogna mai mollare. Essere in armonia con le compagnie e dare il massimo, il 100% in campo quando stai giocando. Non far cadere la palla. Questo è il mio secondo anno. Questo è il quarto anno. Da due anni. Quattro anni e mezzo diciamo sì. Il mio sogno è imparare a fare la schiacciata. Vorrei partecipare alle Olimpiadi con la nazionale. Il mio sogno è andare a giocare alle Olimpiadi. Infermiera o veterinaria? Devo scegliere un po'. Infermiera. No. Il mio sogno. Io.